Un accordo firmato tra ditta e sindacati in confindustria ha messo fino allo sciopero degli operai del cantiere di Via Cassia. Riprendono così i lavori dopo una polemica e una protesta durata, quasi una settimana. Vicenda palazzina di Via Cassia, sembra che dovesse durare ancora tanto la protesta dei lavoratori, non pagati da due mesi. Poi c'è anche un problema per quanto riguarda gli inquilini, infissi non tutti montati, benché una parte, gli operai ne avevano montato una parte, adesso si è giunto un accordo con l'impresa, quindi i lavori riprendono. Sì, ieri finalmente dopo ben due settimane di sciopero e dentro ci stavano anche Natale e Capodanno, quindi insomma abbiamo vissuto giornate intense, abbiamo raggiunto l'accordo che serve a far riprendere i lavori già da questa mattina. Chiaramente questi ritardi accumulati legati alle proteste legittime dal nostro punto di vista da parte dei lavoratori, più i ritardi accumulati per altre questioni, non hanno permesso di concludere la manutenzione straordinaria di questo edificio entro novembre. E quindi insomma questa situazione ha creato altri problemi durante la vertenza, che è quello insomma che si è documentato in questi giorni, cioè il malessere che stavano vivendo anche gli inquilini di Via Cassia. Quindi avevamo a che fare non solo con un problema classico che seguiamo tutti i giorni, quello delle vertenze che hanno i lavoratori nei confronti delle imprese, ma avevamo anche di fronte il problema degli inquilini che non avevano una situazione abitativa degna, dignitosa. Due parole, come si è concluso ora l'accordo? Dal nostro punto di vista l'accordo si è concluso più che bene, perché con tre step a partire già dalla giornata di stamattina riusciremo a mettere in regola gli stipendi arretrati entro il 31 gennaio.